Buongiorno a tutti quelli che ci seguono, che ci sono stati vicini in questi giorni, siete stati veramente in tanti, sono passati nove giorni dalla tragedia, quindi ci tenevo come minimo a ringraziarvi con una storia, è la mia prima storia dopo nove giorni perché siete ancora tutti dispiaciuti, sono ancora sotto shock, quindi ci tenevo dopo nove giorni a ringraziarvi personalmente e per tutti quelli che mi chiedono di Andrea, Andrea è al cimitero di Pianura, quindi tutte le persone che vogliono passare per un saluto o per un ricordo al cimitero di Pianura. Io stamattina personalmente sarò all'ospedale Mangafallapost, si chiama Andrea Tortora di Pagani, dove ho accolto l'invito del pizzaiolo Antonio Sbarra con l'aiuto di Angelo Tramontano, quindi nel reparto oncologia e dematologia di questo ospedale porteremo le pizze per donare un sorriso a questi pazienti speciali. E in più ci tenevo a dire anche che sono particolarmente vicino a tutte le persone e vi giuro che sono veramente tante, sono state veramente tante, tutte le persone che mi hanno scritto che soffrono chi perennemente, chi ha tratti di depressione e io che ci sono passato circa dieci anni fa, vi posso comprendere, quindi sono particolarmente vicino a queste persone e non vi nascondo che cercheremo di fare qualcosa per sensibilizzare chi deve aiutare queste persone. Mi sono vicino.